Ingegnerizziamo il Tequila Sunrise. Perché ingegnerizziamo il Tequila Sunrise? Perché il Tequila Sunrise è stato fatto per tantissimi anni, drink che andava tanto di moda, 70, 80, 90. Io ne ho vissuto un po' la coda avendo iniziato a lavorare nei primi anni 2000 ed è un drink che oggettivamente non era particolarmente buono. Riusciva a essere ruvido e allo stesso tempo dolce e allo stesso tempo con un sentore un po' sintetico dovuto alle granatine di bassa qualità. Quindi in questo video ti vado a spiegare come fare un buon Tequila Sunrise e poi addirittura come ingegnerizzarlo per portarlo a un altro livello. La prima cosa da dire è che è un drink composto a tre ingredienti, tequila, succo d'arancia e granatina e adesso li andiamo ad analizzare uno a uno per partire da una base di un buon livello. Tequila deve essere un tequila blanco 100% agave. Quindi non un tequila misto. Controlla sempre l'etichetta quando utilizzi un tequila, assicurati che ci sia scritto 100% agave o 100% puro de agave. Vuol dire che viene fatto solo dall'agave e non viene tagliato con alcol di altre origini. Solitamente sono molto più erbacei, più floreali, anche quasi più morbide. Succo di arancia, ovviamente si intende la spremuta di arancia e non il succo di arancia in un bottiglione. Sull'arancia non c'è nessun tipo di scusa. Si comprano l'arancia, si trovano tutto l'anno, lo spremi agrumi, lo abbiamo tutti, spremiamo l'arancia e l'andiamo a filtrare con un colino. Granatina. Ma c'è un problema con la granatina industriale. La granatina industriale è una di quelle preparazioni homemade base, a cui ho dedicato anche una guida sul sito, e purtroppo quella industriale non è il massimo. Ha un sapore che tende sempre un po' al sintetico, un po' finto. Ecco, nonostante si cerchi di migliorarlo, però è un prodotto di cui difficilmente si arriva a un certo livello qualitativo e gustativo. Quindi l'unico modo è farla homemade a partire da succo di melagrana. In questo caso io non vado a utilizzare uno sciroppo di granatina, invece infatti faccio una differenza tra quello che è lo sciroppo di granatina, quindi almeno 62 gradi briggs, e la granatina. Nel mio caso la granatina, senza la parola sciroppo, è un premix 1 a 1, quindi a 50 gradi briggs, tra succo fresco di melagrana e zucchero. Perché faccio questo? Perché ne vado a mettere 20 ml, che altrimenti in questo bilanciamento sarebbero troppi se fossero sciroppo. Quindi lo faccio un po' meno zuccherino, e in questo modo, andando neanche leggermente di più, si sente un pochino di più il sentore della melagrana. Ok? Quindi già se lo fate con questi consigli, un buon tequila, succo fresco di arancia, una granatina fatta in casa, a partire dal succo di melagrana, fate un eccezionale tequila sunrise. Ma lo possiamo ingegnerizzare e portare a un altro livello, perché bevendo questo drink vi renderete che tutto sommato gli manca qualcosa. È un filino piatto. L'anello debole di tutta questa ambaradan è qui, è il succo di arancia. Il succo d'arancia, la spremuta d'arancia, che è bevuta da sola, è molto gradevole, ma quando viene miscelata, quindi con altri ingredienti, il ghiaccio e tutto, tende a diventare sciapa e si perde. Quello che noi andremo a fare è cercare di ritirarla su, cercare di fare in modo che torni a essere protagonista di questo drink. Come? Andando a utilizzare anche le scorze di arancia per dare aroma, e andando leggermente a lavorare sul suo gusto con un pochino di acidi ed eventualmente, se ne avete la possibilità, sulla sua texture. Partiamo dalla cosa più semplice da fare. Andiamo a dare al tequila un leggero sentore di scorze di arancia. Quindi prendiamo un buon tequila 100% agave, con almeno un 40% di alcol, e andiamo a metterci all'interno in infusione un po' di scorze di arancia fresca. Non ne servono tante, ne servono un minimo, 3-6 grammi, anche qui possono essere più che sufficienti. Volete andare oltre? Potete andare anche a 10 grammi litro, ok? Per dare giusto quel flavor, quell'aroma in più. E vi sconsiglio di andare ad utilizzare triple sec o altri liquori all'arancia, cioè se volete provate a farlo, ma rischiate o di alzare troppo il tenor alcolico o di abbassare un po' il sapore del tequila, se poi andate, che ne so, a togliere un po' di tequila al posto e per fare posto a un po' di contro-triple sec o altro liquore di arancia. Vi consiglio di macerare direttamente un po' di scorze all'interno del vostro tequila. Cosa che abbiamo fatto qua. Dopodiché è il momento di lavorare sul succo di arancia. Il succo di arancia, come dico, tende ad essere un po' sciapo. Una cosa che si può fare è quella di andare a metterci dentro un pochino di acido. E questo è un trucco molto interessante, una cosa che io faccio spesso. Adesso non vado proprio ad acidificare il succo di arancia in maniera pesante, ok? Metto un pochino di acido citrico per dargli una sfumatura di acidità in più. In particolare ogni 100 ml vado a utilizzare 0.5 grammi di acido citrico, quindi veramente pochissimo. Ecco, per farvi capire già qui siamo a 0.8 grammi di acido citrico, 0.6 grammi di acido citrico, togliamone ancora un po'. 0.4 grammi di acido citrico, 0.5 grammi di acido citrico, 0.5 grammi di acido citrico, 0.5 grammi di acido citrico. Un pochino più freschezza, un pochino più vigore, senza essere snaturato. Poi se volete, e ne avete la possibilità, potreste andare a trattare il succo di arancia con un sonicatore, di cui ho fatto un video, oppure con un omogenizzatore rotore-statore, un ultra-turrax, o per esempio, adesso vi faccio vedere cosa ho anche qua, questo particolare accessorio del multi-drive, quindi vedete che ha delle lame particolari, ed è un omogenizzatore rotore-statore, appunto va a spappolare un po' di più la polpa e a dare una texture diversa al nostro succo d'arancio. Una cosa un po' avanzata, adesso io l'ho già fatto, ma non siete assolutamente obbligati a farlo, ok? E' una cosa in più. Granatino made, già se l'abbiamo, andiamo a preparare uno dei drink preferiti di Mick Jagger. Tra l'altro al tequila sunrise, se non vado errato, anche gli Eagles dedicarono una canzone, appunto, con lo stesso nome. Raffreddiamo il bicchiere di servizio. Scoliamo l'acqua in eccesso e andiamo a versare i nostri ingredienti. 50 ml di tequila. Poi ragazzi, se volete farlo un po' più lo alcol, potete metterne anche meno, eh? Nessuno gli vieta di metterne 30 o 40 ml. Succo di arancia, 90-100 ml. Questi sono 100 ml che abbiamo prima utilizzato. E si va a miscelare, ok? Quindi questi due ingredienti vanno amalgamati. Aggiungiamo qualche cubetto di ghiaccio che andiamo nuovamente a sistemare e a questo punto dobbiamo andare ad aggiungere questi 20 ml di granatina che possiamo andare a misurare con un Jigger o anche a versare direttamente. e solitamente li si fa colare lungo il bordo per andare a creare questa sfumatura, ok? Che ricorda appunto sunrise, l'alba. Da servire rigorosamente con uno stirrer perché questo drink non si beve a strati perché se usate la cannuccia vi bevete prima tutta la zaffata dolce e poi arriva l'arancia se lo bevete senza cannuccia prima vi bevete la parte di arancia e poi la parte dolce questo drink indicate ai vostri clienti che è la modalità di servizio, di presentazione ma poi va miscelato per essere bevuto quindi se lo misceleranno poi loro con lo stirrer che darete in dotazione, ok? Mi sono dimenticato ma prima di miscelarlo al cliente gli ho dato con lo stirrer per fare una decorazione potreste mandargli per esempio una fetta d'arancia o se preferite anche una scorza visto che dobbiamo spremere il succo conviene utilizzare una scorza così non va sprecata io adesso lo miscelo lo assaggio e che dire è totalmente un'altra cosa non è un succo d'arancia sciapo con il ricordo non è un tequila giratta con il ricordo di un succo d'arancia sciapo scusate mi ero incastrato ingegnerizzare non vuol dire stravolgere vuol dire prendere i punti di debolezza i problemi e attraverso un studio rigore tecnico scientifico andare a ragionare sulla ricetta per perfezionarla e far diventare i punti di debolezza come il succo d'arancia un punto di forza da Mick Jagger dal Tequila Sunrise dagli anni 80 è tutto riportiamo questo Tequila Sunrise in questi anni 20 del 2000 e noi ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao